Abito in un palazzo che ha otto piani. Ad ogni piano ci sono cinque appartamenti, quindi più o meno 40 nuclei familiari. Molti di questi nuclei familiari sono composti da persone che abitano da sole, quasi tutte signore di una certa età. E poi ci sono delle famiglie. In generale diciamo che la maggior parte delle persone che abitano nel mio palazzo è molto gentile, molto cordiale, ci si saluta sempre per le scale, quando si fa un pezzo e un ascensore, ora non più insieme, perché da dopo il covid ormai si viaggia solo da soli o con la propria famiglia in ascensore. Si chiacchiera, mi fa sempre piacere scambiare due parole anche quando l'incontro per strada o al supermercato. Nel palazzo però ci sono delle persone che non amano chiacchierare e non amano nemmeno rispondere al saluto. Questa cosa qua mi incuriosisce moltissimo, più che indispettirmi, che vabbè è un po' maleducazione se ti salutano non rispondere, però mi incuriosisce. Come può una persona che ti incontra faccia a faccia, tipo io sto uscendo e questa persona sta entrando e io dico buongiorno e questa persona non risponde. Il suo sguardo passa sopra la mia testa e non risponde. La cosa veramente mi incuriosisce tantissimo, lo trovo affascinante perché mi immedesimo in questa persona e mi immagino forse questa persona è presa da pensieri ma è possibile che sia sempre 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 così assorta a pensare ad altre cose. Io non ci riuscirei a ignorare qualcuno che mi saluta anche se è una persona che mi sta antipatica, però mi rendo conto che è un modo di porsi nei confronti degli altri, nei confronti della vita completamente diverso dal mio e così come tutte le cose diverse appunto lo trovo incredibilmente affascinante. Io sono esattamente l'opposto, io non perdo occasione per chiacchierare con gli estranei, con le persone che non conosco, qualsiasi motivo, anche per fare i complimenti se vedo una signora che ha un bel vestito, ah ma che bel vestito signora e di solito le persone sorridono e apprezzano. Non mi è mai capitato veramente di incontrare una persona così, l'ho vista solo nei film e quando di solito vedo personaggi del genere nei film li trovo poco credibili appunto perché non sono vicini alla mia realtà. Eppure io mi ci metto veramente di impegno e saluto questa persona con extra dose di entusiasmo un po' per provocarla perché voglio vedere fino a che punto arriva a non salutarmi e un po' perché so che se una persona ti ignora è il modo peggiore per farla star male e essere ancora più presente nel loro campo visivo.